Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi 7 libri talmente brevi da poter essere letti in un giorno, addirittura in una sera. Sono tutti sotto le 200 o le 100 pagine. Nell'ultimo periodo ho riscoperto un po' il piacere della lettura di libri brevi, soprattutto quando mi sento bloccata nella lettura. Trovo che libri così brevi mi aiutano un po' a sbloccarmi, perché arriva quasi subito la soddisfazione di iniziare e poi terminare qualcosa. Quindi non ho la sensazione di lasciare qualcosa in sospeso o di trascinarmela avanti per troppo tempo. Può essere anche utile per chi magari pensa di avere poco tempo e quindi è alla ricerca di una lettura breve, ma che comunque valga la pena fare. Prima di iniziare però con i consigli volevo ringraziare lo sponsor di oggi, ovvero Ana Luisa, un brand di gioielli con un occhio alla sostenibilità. Probabilmente avrete notato le collane che indosso oggi, che fanno parte di un set che ho scelto dal sito di Ana Luisa. Ho sfoggiato questo set in più di un'occasione, quindi sicuramente l'avrete visto su Instagram o in altri video. Mi piace tantissimo ultimamente abbinare collane diverse. Quindi questo set mi sembrava perfetto perché ci sono ad esempio due catene però con maglie diverse e poi una sorta di dipendente con un ciondolo abbastanza importante che fa una luce veramente pazzesca. Stanno benissimo sia così sulla camicia, con la camicia aperta, ma anche sui maglioni. Prima avevo quello con le pesche che metto di solito e ci stava veramente da dio. Ho scelto anche altri due set di collane, uno molto molto fine ed elegante, sono tutti poi placati in oro quindi hanno un finish molto elegante anche se hanno una trama semplice o sono dei pezzi appunto molto fini. L'altro set invece lo desideravo da tempo perché ha un piccolo pendente verde che è uno dei miei colori preferiti. Anche in questo caso è un set molto semplice che però riesce secondo me a impreziosire anche le magliette un po' più sportive, le felpe o appunto i maglioni. Adesso che fa un po' più freddo e tendiamo appunto a coprirci, secondo me sono comunque perfetti. È un'ottima soluzione per chi sta cercando un pezzo che sia durevole nel tempo. La qualità infatti di questi gioielli è pazzesca, in passato ho preso anche dei loro orecchini e li indosso veramente sempre. A volte mi dimentico di toglierli anche sotto la doccia e non si sono mai rovinati, non è mai successo nulla loro quindi sono veramente molto contenta perché possono essere indossati anche nella quotidianità, non soltanto per l'occasione speciale. Vi lascio qua sotto in descrizione il sito di Ana Luisa in modo che possiate sbirciare i loro gioielli oltre alle collane e agli orecchini che vi ho fatto vedere. Hanno in realtà anche degli anelli, io ancora li devo provare però ho visto che hanno dei pezzi veramente molto carini. Cliccando sul link avete già il 20% di sconto. Tronando ai consigli di lettura il primo di cui vi voglio parlare è Abbandonato sulle strade di agosto. Dito Takami, questo libro conta meno di 100 pagine se non sbaglio 88 quindi anche in un paio d'ore si esce tranquillamente a leggere ed è una storia secondo me molto interessante sull'incomunicabilità fra due persone, in questo caso fra due coniugi che stanno divorziando. Mentre il protagonista è al lavoro lui si occupa di rifornire i distributori automatici, secondo me è una cosa abbastanza tipica del Giappone e delle grandi città, vedere tutte quelle macchinette immaginatevi ad agosto con la calura eccetera è fondamentale che soprattutto i distributori di bevande siano continuamente riforniti. Mentre al lavoro parla con la sua collega del suo matrimonio che sostanzialmente sta finendo, lui infatti sta per divorziare e ripercorre un po' la storia di come ha conosciuto sua moglie, come sono andate le cose fra di loro e che cosa gli ha portati a prendere questa decisione. Come vi dicevo l'aspetto secondo me più interessante è appunto l'incomunicabilità, nonostante la storia sia ambientata in Giappone quindi in un posto molto lontano da noi non soltanto geograficamente ma anche culturalmente parlando ci sono secondo me dei risvolti che si possono applicare universalmente. La difficoltà ad esempio di parlarsi in maniera schietta, di confidare i propri dubbi, le proprie insicurezze ad un'altra persona e il fatto che in una relazione l'amore non basti, l'attrazione non basti ma ci vuole un certo impegno. Genere totalmente diverso la ragazza scomparsa di Shirley Jackson, questa è una raccolta di tre racconti che conta 78 pagine quindi anche in questo caso lettura perfetta per una serata. Questa piccola piccola raccolta di racconti mischia un po' le atmosfere cupe all'orrore però sottile, sono tutte storie che danno un certo brivido. E come vi dicevo poco tempo fa in un video pre-Halloween, molto spesso le storie che a me spaventano di più non sono quelle legate ai fantasmi, ai demoni o appunto al sovrannaturale ma proprio a quelle cose che potrebbero capitare a qualsiasi persona, che sono legate quindi all'uomo. Bene, in questa raccolta io ho ritrovato molto questa atmosfera, qualcosa di inquietante che aleggia che non ti sai spiegare ma che appunto potrebbe capitare benissimo a chiunque. Torniamo in Giappone con un autore molto molto conosciuto, ovvero Murakami con Abbandonare un gatto. Tranquilli, non succede niente al gatto e non è una storia strappa lacrime. Questo è infatti il primo memoir dell'autore in cui racconta un po' di se stesso ma soprattutto di suo padre. È un'edizione bellissima e illustrata che anche in questo caso conta, se non sbaglio, un'ottantina di pagine. Io l'avevo letto in presso digitale e mi era piaciuto molto proprio per la sua autenticità, per raccontare qualcosa di quotidiano, di banale, tra virgolette. L'autore stesso nel libro si definisce una persona qualunque, figlia di una persona qualunque. Ma spesso le cose straordinarie riguardano proprio la nostra quotidianità. È assolutamente consigliato se vi piace l'autore. Certo, manca quella componente onirica che caratterizza un po' le sue storie, però a me affascina moltissimo questa parte dell'autore legata più alla realtà. Un titolo classico che mi ha sorpreso molto è stato Il ballo di Irene Nemirovski. Anche qua ci troviamo sugli 80 pagine e il protagonista della storia è una famiglia che all'improvviso si ritrova ricca, quindi fa un bel salto di qualità, di status sociale. E l'autrice indaga proprio questo balzo, che cosa cambia nelle dinamiche della famiglia, la sua percezione nella società, e in particolare il rapporto fra madre e figlia, caratterizzato da una forte invidia. In poche pagine secondo me si riesce a dar voce in maniera molto convincente a questi temi e a mettere in luce soprattutto le criticità dell'epoca e della società, ma anche un po' le contraddizioni e l'ipocrisia. Poi come vi dicevo c'è un interessante rapporto madre-figlia che è tinto abbastanza in maniera negativa. Si parla un po' di risentimento, di invidia, di vendetta o comunque di dispetti. Sulle 130 pagine invece Millegru di Yasunari Kawabata. Il protagonista di questa storia è un uomo che segue un po' le orme del padre, soprattutto per quanto riguarda le donne, perché infatti inizia a frequentare ed è comunque circondato da diverse donne, fra cui le amanti del padre. Potremmo definirla forse una storia d'amore, ma è leggermente più complicata di così. Lo sfondo di questa storia è secondo me molto interessante, perché si parla molto di un aspetto secondo me caratteristico del Giappone, ovvero la cerimonia del tè. E anche nel trattare l'amore possiamo vedere molto del Giappone, dall'amore puro, casto, a quello invece più passionale e carnale. E anche il fatto che quest'uomo sia circondato da diverse figure femminili che sembrano quasi contenderselo, è un aspetto abbastanza interessante. Perché alla ricerca invece di qualcosa di più fantastico, una sorta di favola della buonanotte, consiglierei Il Viaggio di Halla. La protagonista è una bambina che viene abbandonata nel bosco dal padre, perché essendo figlia di un precedente matrimonio non è ben vista dall'attuale consorte. Nei boschi viene dapprima cresciuta dagli orsi e poi dai draghi. Ma questo è soltanto l'inizio dell'avventura di Halla. Come atmosfera mi ha ricordato abbastanza Il Signore degli Anelli, o comunque tutto il mondo creato da Tolkien. Non aspettatevi una storia ricca di tensione, di avventura, di movimento in un certo senso, ma è una lettura più leggera ed evocativa, che ha quest'atmosfera fantastica, ma in realtà affronta tanti temi che riguardano la realtà e la nostra quotidianità. Proprio per questo ricorda secondo me quei classici fantasy, che con la scusa tra virgolette del mondo fantastico raccontano invece qualcosa di assolutamente familiare e quotidiano. L'ultimo libro che voglio consigliarvi oggi è Sul letto di fiori di Banana Yoshimoto. Conta circa 100 pagine ed è l'ultimo libro di questa autrice pubblicato qua in Italia. La protagonista è una donna che da bambina è stata ritrovata dalla sua famiglia in riva al mare. La sua madre naturale infatti l'ha abbandonata lì, ma per sua fortuna è stata poi trovata da una coppia che desiderava tanto avere dei figli, ma per un motivo o per l'altro non ci riusciva. E quindi è stata più che contenta di accogliere questa bambina in famiglia. E proprio per questo Miki, la protagonista, cresce circondata da tantissimo affetto, proprio perché è stata una bambina tanto tanto desiderata e arrivata tra virgolette per miracolo. Crescendo poi capisce la sua estrema fortuna, perché tanti bambini vengono magari abbandonati e non ritrovati, o crescono non circondati da tutto questo affetto e da tutte queste attenzioni. Prende la vita quindi con estrema positività e sempre con il sorriso stampato in faccia. E questo spesso viene scambiato per superficialità. La sua quotidianità viene però stravolta da alcuni episodi abbastanza inspiegabili ed inquietanti, come l'apparire di certe pietre o una donna un po' strana. Non è il titolo migliore che io abbia mai letto di questa autrice, ma è uno dei titoli suoi che secondo me riesce più a trasmettere positività e a far sorridere. Penso che l'intento dell'autrice sia stato proprio questo, ovvero riuscire a strappare un sorriso in un momento di particolare difficoltà. Se quindi vi sentite in un momento un po' di sconforto, sottotono o tristi, è un libro che secondo me riuscirà sicuramente a risollevarvi il morale. Questi erano quindi i titoli che volevo consigliarvi oggi, mi raccomando fatemi sapere qua stato nei commenti, se li avete letti in questo caso che cosa ne avete pensato, e se avete magari un libro sotto le 150 pagine da consigliarmi, mi raccomando fatevi sotto. Vi ricordo di controllare poi qua sotto in descrizione, perché trovate non solo la lista dei libri che ho citato, ma anche il link al sito di Ana Luisa, dove avete il 20% di sconto sui vostri acquisti. Ringrazio ancora Ana Luisa per questa collaborazione, e ringrazio voi per avermi tenuto compagnia fino a qua. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!